ciao e benvenuto su smc il canale youtube dell'omonimo gruppo facebook smc svapo e musica club io sono filippo e questa sera oggi non faremo unboxing non facciamo niente parleremo solo di passione solo passione un prodotto che non è in vendita un prodotto che voglio farvi vedere semplicemente per farvi vedere quanto è bello questo mondo quando un ragazzo molto giovane e molto appassionato fa delle cose come quella che vi farò vedere adesso questa è la summer on a solitary beach l'ho chiamata io così è una box bf è una box in radica d'acero stabilizzato la provenienza del legno è la russia è fatta in quel di trento da da un appassionato non modder ma direi artista della provincia di belluno un ragazzo molto giovane ve la sto facendo vedere così la cosa è semplicemente guardare e godere di tanta passione qui sopra c'è un un engraving fatta a civetta summer on a solitary beach perché insomma sembra direi il mare il mare della sardegna ok e quindi ho pensato a questo la box è fatta con tutti elementi di primissimo livello la tazza è una mod dog nano il tubo della batteria è in acciaio ed è un mod maker scusatemi il pin in argento ovviamente la tazza mod mod dog la boccetta è una goldilocks di stealth vape e ha un incisione al laser che la red è personalizzata questa magari ve la faccio vedere ops eccola qui stessa stessa cosa che richiama il gufo o civetta che sia che nei paesi del nord porta fortuna la box è dotata di un mosfet di un bomber pro vedete che è il pro perché si vede che l'attivazione è segnalata dal dal led dal led luminoso adesso io ho messo in standby il led luminoso ok adesso l'ho riacceso l'esperienza di svapo con questa box si avvicina al piacere tantrico al piacere tantrico questo questo mi viene il drip tip è solo fortuna l'ho trovato casualmente di un colore che è il suo il bomber le dà una un erogazione precisa lineare e con una spinta decisa ma non aggressiva è una box di di livello assoluto summer on solitary beach ditemi cosa ne pensate grazie mettete un like se vi è piaciuta la box io sono uno scemo e va bene così iscrivetevi al canale se vi fa piacere venite ad iscrivervi al al gruppo facebook svapo musica club vi assicuro che è divertente e niente vi auguro buona serata ciao ciao